e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere Ghostbusters 1 e 2 limited edition gift set con una statua del marshmallow include all'interno il film in italiano ecco questo è il retro Ghostbusters 2 disc set con una statua del marshmallow include future molto bella questa vendizione questa l'ho presa su ebay da un venditore privato andiamo ad aprire e questa è la statua del marshmallow con i logo Ghostbusters collect table di prodigy set side issue molto ben fatta poi abbiamo il dvd chi ti aiuterà ovviamente in italiano sono i film i contenuti speciali film per tutti eccetera eccetera interno è fatto così molto bianco con i due dischi e poi c'è anche questa gift card sul sito side show collect tables è un diciamo bonus rimettiamo tutto di nuovo dentro e questa era la dvd gift set di Ghostbusters 1 e 2 mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video